Benvenuti, sono Patrizia Scharr e ho il piacere di presentarvi questo nuovo corso di come creare un ebook nel formato ePub e Kindle lavorando in InDesign CC, ma il corso può essere utilizzato anche per coloro che lavorano in InDesign CS6 che comunque permette di creare ePub e di esportare in formato Kindle. Allora, vediamo cosa impariamo in questo corso. Innanzitutto dobbiamo capire cos'è un ebook e cos'è un ePub. L'ePub è un formato standard che usiamo per leggere un ebook, un libro elettronico. Dopodiché andremo ad analizzare la differenza tra un ePub 2 e un ePub 3. L'ePub 3 è la nuova versione con delle feature interessanti in più e andremo anche a scompattare un ePub per capire in cosa consiste, come è costruito e come si può modificare manualmente un ePub. Andremo a vedere il flusso di lavoro, quello è molto importante perché vedremo come elaborare il nostro documento in InDesign e questo occuperà la parte assolutamente centrale del nostro corso e dunque preparare il nostro documento in InDesign con tutte le accortezze per poter esportarlo poi in un formato ePub. E poi andremo a visualizzare i nostri documenti, ne abbiamo creato più di uno, andremo a vederlo in anteprima su Adobe Digital Editions e anche su altri eReader. Poi alla fine convalidarlo utilizzeremo un software gratuito e nel caso ci fossero dei problemi il software lo annoterà e potremo risistemare il tutto in InDesign. Dunque sarà questo il flusso del lavoro che dovremo seguire per creare il nostro documento in formato ePub. Andiamo avanti per vedere cos'altro dobbiamo fare. Andremo a costruire il nostro eBook. Questo vuol dire intanto creare un ordine di layout, utilizzare gli articoli per poter esportare in modo consistente e ordinato. Poi vi farò vedere come creare sommari per la navigazione. Dobbiamo aggiungere i metadati in modo da definire che questo è il nostro libro. Vi farò vedere dove si trovano questi metadati. Possiamo aggiungere un indice che è importante. E poi vi farò vedere come usare il pennello libro per creare un eBook. E allora guardate qui siamo nell'Adobe Digital Editions che utilizzeremo per visualizzare in anteprima. E vedete qui abbiamo ad esempio creato il nostro libro con le fiabe. Vedete qui nella navigazione avremo un sommario che è impaginato utilizzando capolettere, utilizzando stili di carattere, utilizzando font particolari. Vedete poi di volta in volta quando passiamo da un capitolo o da una favola all'altra, questa favola comincerà su una nuova pagina. Dunque applicare un'interruzione di pagina. Poi vedete abbiamo, vi ho promesso, non solo i sommari ma anche un indice. Un indice è importante perché ci aiuta alla ricerca della parola chiave. E dunque vedete qui ingrandendo possiamo vedere subito dove si trova questa parola chiave. Tutto questo è molto importante. Com'è importante? E' la gestione dei layout. Vedete creare dei layout particolari e poterli esportare in modo corretto in ePub richiede delle regole molto precisi che avrò il piacere di farvi vedere. Torniamo alla nostra scheda e vediamo cos'altro possiamo imparare. Impariamo sicuramente la gestione del testo che è fondamentale. Dobbiamo imparare a spaziare bene. Dobbiamo assolutamente usare gli stili di paragrafo e di carattere per la formatazione, per garantirci un'esportazione in ePub corretta. E dunque vedremo anche le tabelle. Com'è fondamentale la parte della gestione delle immagini? Dedicheremo molto tempo alla gestione delle immagini. Perché dovremo vedere come esportare una copertina. Dovremmo vedere come fare per avere l'immagine contornata da un testo una volta allineato al centro con dello spazio sopra e sotto. Questo è fondamentale perché senza sapere esportare correttamente le immagini questo tipo di impaginazione è assolutamente difficile. Andremo a vedere come esportare grafica, sfondi e video. Infine vi spiegherò come esportare correttamente considerando tutto quello che abbiamo visto fino adesso in un formato ePub. Andremo a visualizzare in anteprima i nostri lavori in vari reader e vedremo come convalidare le nostre opere. E infine in ultimo andremo a esportare anche per Kindle di Amazon che richiede non il formato standard ePub perché ePub è lo standard necessario per vendere su tutti i tipi di store di libri. Solo Kindle di Amazon richiede un suo standard che è Mobi o formato 8 adesso e vi farò vedere come esportare in Kindle, come vedere in anteprima vedete il nostro lavoro qui in Kindle e dunque potrete vederlo in Kindle Fire HD in vari tipi di dispositivi di Kindle. Ok e qui vedete avete anche qui l'impaginato che avete realizzato durante il corso dunque deve corrispondere il capolettera, i titoli e così via. Vedete è anche il tipo di impaginato esattamente così come l'abbiamo visto precedentemente. E infine andremo a analizzare un software molto interessante che è Calib che ci consente tra le altre cose anche di trasformare il nostro formato ePub in un formato Kindle. Dunque penso che sia un corso completo dove avrò il piacere di seguirvi dagli inizi della preparazione del vostro documento in InDesign fino a quando il vostro documento sarà pronto in formato ePub pronto ad essere distribuito su tutti i store che avete scelto per la distribuzione del vostro eBook.